mi sta scaricando ma sta andando il video facciamo presto anti rughe compattezza antietà detox estrazione 100% naturale nutrizione a tutto tondo illuminante giorno belli questi oli si e olietti qua mi ispirano l'isir di dolcezza vabbè c'è una vasta gamma di prodotti bellezza nella tua truce ciò che ti rende felice mi renderebbe felice ma è solo di qua i brosci vediamo se mi può soddisfare avere di nuovo il mio naso come dritto come prima senza la gomitata sopra il naso quindi come si può fare che roba è bellissima questo qua ogni 25 euro di prodotti macchiage occhi della felicità ah bello hanno abbinato per ogni ombretto perché questo è un ombretto guardate la forma la shade un ombretto in stick ancora provato c'è la sua mattita casual sono varie tonalità nudo oro topo chunghi